Un ordine di servizio trasferisce i medici del reparto di urologia di Comiso all'ospedale di Ragusa. Di fatto si decreta così la morte di uno degli ultimi presidi rimasti all'ospedale Regina Margherita. Un fulmine al Celsereno, uno dei tanti capitati in questi anni, che ha scatenato sorprese e malumori. Il sindaco di Comiso Giuseppe Alfano parla di un atto di gravità inaudita, operato dal responsabile del Dipartimento, dottore Serrao, che a suo parere va contro la tutela del diritto alla salute dei cittadini del bacino Ipparino e in controtendenza con i risultati conseguiti a Comiso da quando il dottor Cannata era stato assegnato al reparto di urologia del Regina Margherita. Con il suo arrivo il reparto di Comiso aveva visto quadruplicare il numero di interventi chirurgici. Secondo il primo cittadino con questo provvedimento l'ASPE non rispetta gli impegni assunti sia a Palermo che a Ragusa per il rilancio dell'ospedale. Si era certi che Cannata sarebbe rimasta a Comiso con la prospettiva dell'assegnazione di due posti letto ordinari. Invece non è andata così. Inoltre, Chirurgia Generale da Mesi chiede di avere un medico in più perché i tre attuali non bastano all'intero reparto. Alfano chiede a Serrao di revocare l'ordine di servizio, ma l'argomento approderà sabato prossimo all'Assemblea del mondo della sanità indetta dal Comitato Proospedale.